Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi faccio un video un pochino particolare e strano perché vi presento un prodotto che non ho, comunque ancora non mi è stato fornito perché a breve inizierà il Kickstarter. Vi parlo della Elego Jupiter, che tra l'altro ha una piccolissima parentesi, già a nome me lo immaginavo perché dopo Saturn cosa poteva venire di ancora più grande. Quindi l'Elego Jupiter che è una stampante LCD dell'Elego in 6K con un piano di lavoro molto più grande della Saturn e addirittura un'asse Z che se arriva a stampare cose alte 30 cm non ci arriva nemmeno, la nostra stampante FDM non ci arriva, arriva a 25 e quella ci arriverà con un piano di lavoro molto più grande, una stampante veramente competitiva ma soprattutto a un prezzo che farà gola a tanti perché il Kickstarter parte da 600 dollari che poi dopo tradotto in euro saranno tipo 520 qualcosa. Insomma per una stampante che ha lo stesso prezzo della Saturn in 6K c'ho paura. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Come detto la stampante che vi faccio vedere poi montato perché mi hanno mandato un video promozionale, la stampante Elego Jupiter è una stampante LCD quindi a resina non FDM non in plastica con un piano di lavoro disumanamente grande e che a differenza della Saturn porta molte novità, vabbè prima fra tutti la Saturn è un 4K, questa invece è un 6K quindi raggiunge delle risoluzioni che andate a fare veramente un disegno o una scalfitura in un chicco di riso e si vede veramente perché ha una risoluzione pazzesca ma soprattutto finalmente hanno messo un FEP che è quella patina praticamente di protezione che va praticamente fra l'LCD e la bacinella al piano di stampa perché la Saturn aveva il problema che fosse un FEP come per la Mars, sì però il problema è che il piatto è il doppio quindi comunque serviva con la sanction che fa tirando su serviva un FEP più grosso e più resistente è quello che è stato fatto con la Elego Jupiter che è una macchina molto meglio della Saturn che non vuol dire che sia una macchinaccia schifosa a noi ci sta piacendo da morire però non soltanto è la diretta evoluzione ma la potenza da morire e poi si parla di un piano di lavoro che è di 27 cioè più della nostra stampante in FDM e PC nel confronto 27 per 15 per 30 cioè in altezza stampa cose arte così in resina non avrete più il problema di dover prendere un progetto grande dove lo tagliare in due o tre parti con il programma di modellazione 3D e stamparlo anche con Cheatbox non lo dovrete più fare stamperete un pezzo unico grosso così direttamente del piatto ed è un sogno di risoluzione fa 5.448 per 3.064 quindi vedete tranquillamente come va appunto a raggiungere il 6K che è una cosa abnorme secondo me ma non tanto occhio, occhio, occhio c'erano già anche un anno o due anni fa stampanti del genere grandi così a 500 euro parliamo di dollari il prezzo che è su Kickstarter a 600 dollari lo sapete che è una macchina del genere quando ci siamo informati noi ne costava tranquillamente 1.500-2.000 che ci può anche stare eh per una macchina del genere però io me la posso permettere tante altre gente magari come me vederla in un Kickstarter quindi col Kickstarter se fate ci avete anche tutti gli stretch goal che vanno a sbloccare in un Kickstarter a 600 dollari ragazzi fa paura una macchina che ne vale 4 volte di più nel Kickstarter ci sono anche vari tipi di donazioni vari tagli si parte da quello di partenza che è quello lì vi lascio il primo link in descrizione e poi tutti quanti gli altri però comunque avrete la possibilità di avere come vi ho detto a poc'anzi anche tutti quanti gli stretch goal ad esempio uno degli stretch goal mette addirittura un resin tank una bacinella che non è male assolutamente layer purifier e addirittura 5 FEP versione 2.0 che sono quelli più grandi perché ve l'ho detto l'errore forse della Saturn era quello lì che il FEP era lo stesso della Mars ma va bene perché la stampante è più grossa e fa anche più resistenza quando tira sul pezzo infatti si è rotto diverse volte nelle altre stampanti non ci sarà mai bucato o regato nella Saturn magari qualche volta è successo però comunque va bene è una cosa il FEP non costa così tantissimo tranquilli basta starci un po' attenti la più grande figata anzi la seconda perché il primo è il 6K effettivamente la seconda è che c'ha l'autorabocco della resina c'ha tipo una specie di tappo speciale che voi ci dovete avvitare dentro la girate e praticamente vi riempie la bacinella da sola cioè voi non dovete nemmeno più andare lì a colare la resina ma quanto ce ne metto vai ce ne metto 200 milligrammi 300 no 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 assolutamente voi andate lì mettete la bottiglia con questo tappo speciale la lasciate lì chiudete tutto perché questa volta la chiusura non soltanto stagna ma è a sportellino è bellina sembra quasi una specie di vetrinetta no? c'ha questo sportellino che si apre quindi tiene anche gli odori il fumo e tutto quanto ovviamente c'ha anche il filtro per la raccorta dei fumi che ricordo sono comunque tossici e la resina che è cancerogena e c'ha questo fatto qui che riempie da solo la bacinella che è bellissimo veramente bellissimo hanno migliorato l'asse Z l'hanno reso molto più resistente quindi anche più stabile tutto quanto per le stampe e i movimenti sono molto più fluidi appunto grazie a queste quindi la macchina anche dovrebbe fare meno sanctions si spera rispetto alla Saturn comunque ragazzi questo era un video presentazione vi lascio il primo link in descrizione per andare a fare il Kickstarter e fidatevi perché ora ha un paio d'anni che mi ammolli ci giriamo intorno una macchina del genere si uno potrebbe dire vabbè 600 dollari un son naccheri un son noccioline una macchina del genere tranquillamente ne poteva costare 1200-1500 per quel prezzo lì secondo me se volete stampare in resina cose grandi non ve la dovete lasciare scappare fatemi sapere cosa ne pensate spero un giorno di riuscire a portarvela sul canale come la Saturn e primo link è in descrizione per il Kickstarter ciao ragazzi alla prossima ciao